Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel romanzo storico appena pubblicato da Newton Compton dal titolo Io sono la Contessa, Matilde di Canossa, la vita di una delle più grandi donne della storia di Cinzia Giorgio, che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci parli di Matilde. Prego, a lei! Grazie Maurizio, grazie a tutti voi. Matilde di Canossa, che cosa dire e che cosa non dire di Matilde di Canossa, Maurizio, perché è stata forse una delle donne più importanti non solo del Medioevo ma proprio di tutta la storia italiana in generale perché è stata una donna di potere, è stata una donna che per prima ha gestito un territorio vastissimo ed è morta da viceregina italiana, come sappiamo benissimo. Per cui la mole di documenti, di lavoro che ho avuto in questi due anni di preparazione del romanzo, perché chiaramente il romanzo è soltanto la fine di un percorso molto molto lungo di documentazione, di archivi eccetera eccetera, quello che arriva a voi è la storia fondamentalmente di una donna, questa donna che ha avuto un potere così immenso e lo ha saputo gestire perfettamente anticipando in un certo senso un po' quelle che sarebbero state le battaglie femminile e femministe poi dei secoli successivi. Però io non voglio estraporare questa donna dal suo contesto perché Matilde è figlia del Medioevo, dell'Alto Medioevo, quindi è una donna che sicuramente si è avuto una libertà che alle altre era preclusa anche per il fatto che fosse di un certo lignaggio, forse il più alto lignaggio che ci potesse essere in quel momento, ma è una donna figlia del suo tempo, quindi una donna devota, un'intellettuale sopraffina perché aveva avuto la possibilità di essere un'intellettuale sopraffina e io la presento un po' nella sua veste come dire di donna, guerriera, ma soprattutto di politica e di stratega perché lei è stato questo soprattutto tutta la sua vita, lei l'ha passata non solo per la difesa dei suoi territori che quello fino a un certo punto, ma per la difesa del papato. Tant'è vero che io insieme all'editore, mentre pensavamo a un titolo, io avevo proposto proprio la guerriera del papa perché lei era fortemente, la sua storia proprio degli attoni in generale, cioè quindi la sua dinastia, erano molto legati alle vicende del papato. Poi quando arriva Beatrice, sua mamma, a sposare il padre, a un certo punto chiaramente diventano ancora più devoti perché Beatrice era molto devota e quindi Matilde cresce in un sostrato di sì certo Bonifacio era un guerriero suo padre, per cui sia da una parte una guerriera, da una parte è una donna estremamente devota ed estremamente femminile, quindi non bisogna mai dimenticare mentre si legge il romanzo e mentre si parla in generale di Matilde di Canossa che è stata soprattutto una figlia del suo tempo. Stiamo parlando dell'Alto Medioevo, lei nasce nel 1046 e quindi insomma proprio pieno Alto Medioevo e durante la sua storia si incrociano destini importanti come forse il papa principale dell'Alto Medioevo che era il suo tutore, suo amico e confidente ovvero il debrando di Soana che poi diventerà appunto Gregorio VII e infine suo cugino il figlio dell'imperatore Nero di Enrico il Nero cioè Enrico IV che tutti e tre saranno i protagonisti di quella che passerà alla storia come una delle vicende con le quali ancora oggi ci ti racconta di perdoni plateali, quando si vuole chiedere scusa a qualcuno in maniera plateale si dice vado a Canossa oppure il perdono di Canossa proprio perché Matilde di Canossa appunto lo ha reso possibile grazie al suo intervento, quindi non era semplicemente la padrona di casa ma ha reso proprio possibile il perdono riuscendo a conciliare una cosa che all'epoca sembrava veramente inconciliabile perché Enrico IV era chiaramente come tutti gli imperatori era autoritario, era passatemi il termine un po' forte malato di potere perché sapeva che poteva averlo e quindi ogni ostacolo e ogni cosa che si frapponeva era fastidiosa per lui però nello stesso tempo Gregorio era un uomo di polso che voleva rinnovare fortemente la chiesa perché in quel momento la chiesa era scossa veramente da c'erano le simonie, c'era la vendita delle indulgenze, insomma era il caos totale dove lui interviene a gamba tesa per sistemare le cose e siccome Enrico in un certo senso era un po' diciamo anche simbolo di una corruzione che però era ovunque non era soltanto nella chiesa o nell'impero allora poi i due destini si scontrano come sappiamo bene e poi insomma dopo la scomunica che chiaramente arriva in questi casi Matilde concilia l'inconciliabile ovvero richiama il cugino perché il debrando sta salendo verso verso Augusta per deporlo definitivamente richiama il cugino visto che il papa si ferma per andare su ad Augusta si ferma una tappa obbligata a Canossa e quindi li fa incontrare e come sappiamo tutti dopo tre giorni al freddo e al gelo finalmente il debrando di Suana cioè Gregorio VII accoglie e perdona Enrico durerà pochissimo lo sappiamo tutti però questo episodio poi è quello che ci tramanda diciamo la la leggenda di Matilde di Canossa ma in realtà Matilde è stata molto molto di più perché proprio non era una donna che lasciava andare le cose o diciamo delegava qualcun altro a combattere era proprio lei che indossava la lorica e andava a combattere in primo in primo piano e tant'è vero che io descrivo diverse battaglie all'interno del mio romanzo e una fatica terribile perché chiaramente descrivere le battaglie è sempre complicato e soprattutto perché ci sono diverse versioni la versione dei vinti la versione dei vincitori che chiaramente i vincitori osannano il loro operato e i vinti cercano giustificazioni quindi la verità è sempre nel mezzo e mi sono dovuta eh avvalere anche di esperti del settore di soprattutto di eh a spunto strategie militari medievali e che mi hanno un po' spiegato le dinamiche per capire anche la mentalità di Matilde come avesse fatto a ideare per esempio a Sorbara ehm un attacco ferocissimo avendo una ehm un esercito che era la metà di quello nemico anzi la metà della metà di quello nemico insomma io non mi voglio dilungare troppo ehm queste cose ci sono nel romanzo perché è un romanzo fondamentalmente storico dove io ho cercato di rispettare il più possibile ovviamente eh la memoria storica di Matilde e che spero di averle fatto onore e spero di averle eh dato giustizia nel senso lei comunque è passata alla storia come una eh una donna forte e una delle pochissime donne che eh hanno una loro tomba la loro tomba riposano in Vaticano lo sappiamo bene già Lorenzo Bernini è autore di una delle tombe più belle forse eh che ehm ci sono all'interno di San Pietro e e se proprio devo dire la verità io sono partita proprio da da quell'immagine ehm ero a San Pietro due anni fa eh per altri motivi e quando ho alzato lo sguardo mi sono ritrovata proprio davanti a lei e ehm conoscevo la sua storia ovviamente essendo una storica delle donne eh però ho incominciato a pormi delle domande ma chi è questa donna perché eh insieme a Sant'Elena o insieme ad altre donne ehm sono all'interno della della chiesa perché che cosa ha fatto per il papa lo sapevo in parte devo dire che alcune cose mi hanno anche molto molto stupito per cui sono Cristina di Svezia anche eh che era una guerriera come lei però e riposa anche lei lì però eh mi sono domandata perché mi sono ritrovata lì evidentemente per un motivo eh perché ero ferma e stavo facendo altre cose ho alzato lo sguardo e mi mi sono eh ritrovata davanti alla agli occhi di Matilde però vista attraverso eh già Lorenzo Bernini per cui eh chi meglio di lui me lo poteva suggerire in un certo senso. Beh Matilde è davvero un personaggio a tutto tondo no? E tutta la vicenda che si dipana tra lei l'imperatore particolare ma non c'è solo quella perché poi lei regna su un territorio vastissimo che arriva fino al nord d'Italia a Castelli in terre e fra l'altro il fatto che lei lasci in eredità la chiesa i suoi domini porterà tutta un'altra serie di vicende ancora più complesse e ancora più complicate no? Per il dominio di quei territori tra Romagna e Toscana soprattutto. Quindi è molto interessante e io non posso far altro che ricordare il titolo evitando tutti ad andarlo ad acquistare perché fra l'altro costa veramente poco e ne vale la pena e lo possiamo anche dire il prezzo eh? Sì sì costa 12,90. Il titolo è Io sono la contessa Matilde di Canossa la vita di una delle più grandi donne della storia pubblicato da Newton Compton sono 256 pagine per 12,90 euro quindi fate questo sforzo e fatevi questo regalo e l'autrice Cinzia Giorgio abbiamo avuto il piacere di avere la nostra gradita ospite perché ci parlasse di questo suo romanzo storico davvero molto interessante. Io ricordo a tutti voi di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove oltre a questa troverete tutte le video presentazioni che abbiamo realizzato in passato. Grazie ancora tantissimo. Grazie a te e grazie a voi. Grazie a te e grazie a tutti.